Ancora fiamme nelle aree incolte e ancora paura tra gli abitanti dei quartieri periferici. Da settimane ormai sono diverse le zone, soprattutto nella periferia nord della città, che sono lambite da incendi che aggrediscono vasti appezzamenti di terreno ricoperti di sterpaglia secca. Martedì scorso un nuovo incendio ha gettato nel terrore ai residenti di Setteferine. Le fiamme si sono levate alte e hanno lambito la chiesa di San Sebastiano e il plesso scolastico di Via Fuentes. In quest'ultimo caso il rogo si è spinto fino al ridosso del muro di cinta della scuola. E solo grazie all'intervento di tosatura delle aree interne al plesso non si è diffuso anche all'interno dell'istituto. Una situazione di pericolo evidente, più volte segnalato dalla dirigente Rosalba Marchiciana, non solo per il plesso di Via Fuentes, ma anche, ad esempio, per l'istituto Falcone Borsellino di Albani Roccella, anch'esso circondato da altissime sterpaglie a rischio incendio. Sono delle cose assolutamente prevedibili. Sono state segnalate da me, ovviamente, già da tempo, dai presidenti dei comitati di quartiere, dallo stesso Don Giorgio. Quindi, proprio perché sono gli spazi limitrofi alla scuola che sono assolutamente abbandonati, ma, ahimè, nella stessa condizione sarebbero gli stessi plessi e gli spazi interni alla scuola. Si troverebbero delle stesse condizioni se non ci fosse, diciamo, l'impegno personale e la disponibilità, la collaborazione dei bidelli che mi permettono e ci permettono comunque di arginare questo fenomeno. Infatti, l'incendio che c'è stato qualche giorno fa ha lambito il cancello della scuola. Semplicemente si è interrotta la continuità della fiamma perché all'interno era stato arato e era stato ripulito il terreno e quindi le fiamme, diciamo, che non hanno proseguito la loro corsa. La dirigente lancia un appello all'amministrazione affinché si intervenga il prima possibile per scongiurare ogni pericolo, considerato anche il fatto che gli istituti resteranno aperti anche durante l'estate per le attività di animazione estiva. I bambini, i ragazzi continueranno anche in estate a svolgere le attività. La sollecitazione è di utilizzare al massimo gli spazi esterni. Questo avremmo voluto farlo e abbiamo cercato di farlo fin dalla primavera e questo sarà il nostro primo impegno per settembre. Quindi io mi auguro che si ponga la dovuta attenzione a quello che è, diciamo, la condizione degli stabili di tutti i plessi scolastici in modo tale da intervenire, perché adesso è una questione di sicurezza, intanto per l'immediato, e si possa programmare in tempi celeri una buona ripresa per settembre. Inutili finora le sollecitazioni inviate via Pecca agli uffici preposti già dal mese di febbraio. È ovvio che la sollecitazione alla pulizia degli spazi verdi la chiediamo frequentemente. È una richiesta che abbiamo avanzato tutti i dirigenti scolastici già da febbraio per essere pronti ad accogliere i bambini durante la primavera all'aperto e utilizzare al meglio gli spazi esterni. Abbiamo un po' messo in campo orti didattici, tante iniziative lodevoli che sono state fatte come segno di impegno civile. Però guardate, questa buona volontà non può soltanto essere premiata con un plauso del momento. Ha bisogno di essere sostenuta concretamente con azioni di sostegno da parte dell'amministrazione. Quindi io mi auguro ancora una volta che ci possa essere un cambio di rotta, una giusta attenzione.